Allo stadio Tombolato il Cittadella riceve il Verona per chiudere la serie dei tre derby consecutivi. Giallo-Blu per tenere il passo del Livorno nella rincorsa al Sassuolo. 4-3-3 per entrambi gli schieramenti. Tra i Granata di Carmine non recupera, Foscarini conferma l'undici di Padova. Comma A accanto a Giannetti e Di Roberto. Nel Verona ha squalificato Alfredson, indisponibile Martigno, ma rientra Caccia in regia Bacinovic, Gomez e Grosso a completare il credente offensivo arbitra Palazzino della sezione di Ciampino. Parte meglio il Cittadella, un tentativo di Maa murato da Maietta. Al sesto minuto, al dodicesimo risponde il Verona con Grossi che va via in mezzo a Ciancio e Vito Francesco. Il cross all'indietro, il destro di Laner finisce di poco fuori. Al ventunesimo le proteste del Verona. C'è questo tiro di Giorgino, un tocco di mano di Martinelli, fa finire il pallone a Caccia che mette in rete ma l'arbitro fischia il fuorigioco. In realtà qui vediamo che c'è il tocco di mano di Martinelli e probabilmente Caccia, al momento del tiro di Giorgino, era in linea con Ciancio. Al ventinovesimo il gol del vantaggio del Verona. Gomez, il cross da destra, in tuffo di testa, Laner segna il suo secondo gol in campionato e porta in vantaggio il Verona. Lo rivediamo, Laner però lasciato completamente solo al centro dell'area. Al trentacinquesimo la risposta del Cittadella con questo sinistro di Di Roberto che finisce alto. Al trentaseiesimo una buona opportunità per Caccia servito da Giorgino ma il capo cannoniere del campionato colpisce malissimo. Al quarantaduesimo ma indietro per Di Roberto, questa volta il suo sinistro impegna Raffaeu alla prima vera parata della partita. Il primo tempo si conclude sul giallo mostrato a Bacinovic, in precedenza era stato ammonito anche Maietta. Secondo della ripresa, subito il pareggio del Cittadella, il cross di Ciancio, il colpo di tacco di Imala, il tentativo di girata di Giannetti. Diventa un assist per Schiavon, primo gol in campionato per lui. Schiavon lasciato però completamente solo, anche lui i due centrali erano andati a chiudere su Giannetti. All'undicesimo ancora Schiavon che parte decentrato, poi carica il destro, pericolosissimo il suo destro al giro, si spegne poco oltre il palo alla sinistra del portiere. Qui c'è Martinelli che è costretto a uscire dal campo per farsi medicare il Cittadella in dieci, il colpo di testa di Bacinovic e Caccia non riesce a deviare in rete da due passi. Mandorlini prova a cambiare qualcosa in attacco, Rivas per Gomez, non cambia molto però nella sostanza. Al ventottesimo questo tiro di Bacinovic da fuori, facile per Kordaz, preoccupato Mandorlini. Infatti al ventinovesimo il suo Verona va sotto Biraghi, il cross basso per Maa al primo gol in campionato. Qui ci sono delle proteste del Verona ma Maa è partito alle spalle di Maglietta, posizione regolarissima. C'è un altro cambio, Foscarini manda in campo Bellazzini al posto di Giannetti, non si copre, continua con il suo atteggiamento. Però arriva qui la nebbia che cala e vedete questa è la situazione. Un tiro ancora di Schiavon, siamo al trentasettesimo e allora al trentottesimo l'arbitro decide di sospendere la partita. Cominciano i conciliaboli tra i rappresentanti delle squadre, arriva anche un pallone arancione. Sembra che si possa riprendere a giocare con questo pallone un po' più visibile ma così non è. Perché al trentottesimo l'arbitro decide che per il momento può bastare così, non si può più giocare in queste condizioni. Si riprenderà dunque a giocare dal minuto 36 e 43 secondi. Quando questo è il problema perché il calendario è intasatissimo, c'è la Coppa Italia. Martedì il Verona è impegnato a Palermo, la settimana successiva il Cittadella sarà impegnato a Catania. Poi la domenica 9 ospiterà nel posticipo il Varese. Dunque date davvero costrette, probabilmente si potrebbe giocare un mercoledì 12 o martedì 18 dicembre. Comunque staremo a vedere cosa decideranno le società tornando al campo fino a quando si è visto qualcosa. Nel primo tempo il Verona aveva saldamente in mano la partita. Poi però in apertura di ripresa quel gol ha cambiato davvero tutto. Decisivi gli inserimenti dei centrocampisti. Allora noi vogliamo indicare proprio colui che ha dato la svolta. C'è Schiavon come il migliore in campo di questa partita. che ripetiamo è stata interrotta al 37esimo della ripresa con il Cittadella in vantaggio per 2-1 sul Verona. Dal tombolato è tutto, linea a roda.